Lo show di successo del Circo Paolo Orfei, Africa, il Regno Animale e il Sogno Africano, arriva in città dal 31 maggio al 9 giugno, il circo più grande d'Italia. Lo sciapitea o dalle grandi dimensioni è pronto ad ospitare il grande pubblico. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleoni il coccodrillo più grande d'Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici, i giganti gli elefanti ed esclusiva del Circo Il Cucciolo di Tigre Rosa, pronto alle coccole. Il Circo Paolo Orfei, delle famiglie Martino e dell'Acqua, rappresenta la novità assoluta nel panorama circense. Attrazioni esclusive ed artisti internazionali premiati al Festival di Monte Carlo. Il complesso circense super confortevole si trova a Cuneo, via Bra, località Ronchi, adiacente M.I.A.C. In programma, i seguenti spettacoli, venerdì 31 maggio, ore 21 e 15, debutto, tutti i giorni, ore 17 e 30 e 21.15, domenica, ore 17 e 30 e 21.15, martedì, mercoledì e giovedì, riposo per riprese televisive. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 347-8988192 o il 379-280-2480 e visitare la pagina Facebook, Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net.